In questi ultimi mesi si parla molto delle paure dell'Italia e degli italiani. L'approccio però non è sempre corretto, tra strumentalizzazioni e banalizzazioni. C'è anche chi si confronta e cerca di comprendere le paure. Uno di questi è Andrea Riccardi, fondatore della comunità di Sant'Egidio, invitato a Brescia per un confronto proprio sul tema paure e speranze in un mondo globalizzato. Ma io sono convinto che bisogna lottare contro un mondo pieno di paure. Le paure sono le paure di un mondo diventato troppo grande, ma le paure ci portano lontano. Il mondo globale è pieno di opportunità e non è vero che tutto va male. Pensiamo ai reati che sono diminuiti dell'8% in Italia, pensiamo a tante felici esperienze di accoglienza. Io insomma credo che siamo un paese che può essere utile al mondo e avere un futuro positivo per le giovani generazioni. Andrea Riccardi, già ministro dell'integrazione e della cooperazione internazionale e autore del volume Tutto può cambiare, edizioni San Paolo. L'incontro promosso dal Centro Studi Storico-Strategici sulla globalizzazione.